Come si sta qui dentro? Benissimo, ma io sono grassata, capito? Sola roba, mi è toccata allargarla tutta. Senta, ma al di là del mangiare c'è altre cose che le piacciono di qui dentro? Tutto, 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 tutto bene, tutto bene, non mi ricordo, ce ne è troppe. Ma la solitudine si soffre? No, per niente, è come casa mia, forse meglio. La signora Liana è una dei tredici anziani che risiedono in questa villa a Campolucci, alle porte di Arezzo, affittata dai familiari dei vecchietti che hanno assunto sette vadanti, due di loro risiedono nella villa. Una struttura oggi è al centro di una complicata vicenda giudiziaria. Dopo un blitz disposto dalla procura in seguito ad un esposto, la struttura è stata oggetto di un'ordinanza del sindaco di Arezzo. Due gli indagati per esercizio abusivo della professione, la villa deve essere chiusa agli anziani trasferiti. I familiari sostengono la tesi dell'autogestione e hanno presentato ricorso al TAR. È un progetto, devo dire, veramente innovativo. Qui un gruppo di familiari si sono messi d'accordo, hanno preso in locazione un immobile, hanno assunto delle vadanti e invece che tenere una mamma di qua e una mamma di là le tengono tutte assieme. Insomma, la storia è sempre la stessa. Quando si invecchia le cose si complicano e la risposta da parte dello Stato non è mai sufficiente. Nella zona sociosanitaria retina, ad esempio, che comprende i comuni di Arezzo, Monte San Savino, Civitella, Castiglionfibocchi, Capolona e Subbiano, sono soltanto 299 le quote sanitarie a disposizione di altrettanti anziani non autosufficienti che possono ambire ad un posto letto in una RSA autorizzata. Allora, le quote sanitarie sono disciplinate da una normativa della Regione Toscana, 52,32 euro al giorno per la condizione di non autosufficienza stabilizzata. Gli anziani in lista di attesa, quelli già valutati dalla Commissione Multidisciplinare, sono una quarantina. I criteri però sono in fase di revisione. Più che altro il regolamento viene rivisto perché cambia proprio il sistema di accesso nell'RSA che ad oggi viene fatto, gestito completamente dai servizi sociosanitari, con la delibera 995 della Regione Toscana, invece, il cittadino sceglierà liberamente dove entrare una volta che ha avuto l'autorizzazione dalla ASLE di residenza a spendere il proprio titolo di acquisto sanitario. 500 i ricoveri temporanei o cosiddetti ricoveri di sollievo all'anno, mentre per coloro che scelgono di tenere l'anziano a casa ci sono i contributi per l'abadante o per le famiglie. Si arriva ad un massimo di 400 euro al mese, ma soltanto per i redditi più bassi. Per tutti gli altri si parla davvero di pochi spiccioli, 600 in tutto le famiglie che ne usufruiscono. Altra soluzione i centri diurni, 54 i posti a disposizione della ASLE per tutti i sette giorni della settimana posti a rotazione. Oppure il servizio di assistenza domiciliare diretta, prestato proprio presso le abitazioni, molto spesso vengono attivate ore di assistenza domiciliare. Sono operatori qualificati o OSS o ADB forniti da una cooperativa sociale che ha avuto in affidamento, a seguito di procedura di gara, il servizio. La coperta è sempre corta, lo dicono i numeri e le tante testimonianze delle famiglie. Senta, noi quando mio babbo praticamente l'ha mandato via dalla struttura ci hanno convocato in comune e ci hanno detto praticamente va arrangiate perché i posti non ci sono. Era una fila, mio babbo, per le strutture, ma mai chiamato. Sono sette anni che aspetta la risposta da qualche struttura, quindi è già morto. Esiste uno strumento alternativo ma non riguarda il mondo della non autosufficienza. Sono le comunità familiari, una sorta di casa famiglia disciplinata da un regolamento regionale del 2008, ma si può appunto attuare soltanto tra anziani autosufficienti.